Romagnolo, questa sera abbiamo l'opportunità di offrirvi uno show per noi eccezionale della scuola di ballo delle serine danzanti, dei maestri Mirko e Sandra, che poi li vedremo anche loro a sua volta a ballare. Sono pluricampioni professionisti danze e folk e alcune coppie della sua scuola. Se sono pronti chiamerei Broccoli Manuel e Sembrini Alice. Manuel e Alice sono pluricampioni italiani, pensate, per 5 volte i consecutivi hanno vinto il campionato italiano e sono attualmente in carica. Adesso chiamiamo Saldi Massimiliano e Sanfatti Giada. Massimiliano e Giada sono campioni italiani 2003 Juvenais 1 classe A. Adesso chiamiamo Lanzetti Federico e Bencivenga Francesca. Loro sono campioni italiani da 2003, categoria non si legge, non si legge, classe A1. Adesso chiamiamo Stefanelli Paolo e Conti Monica. campioni italiani amatori di classe A1 e nostro maestro di ballo. Allora, se il disegno è pronto andiamo subito con un balzer dal titolo Piccolo Leone del maestro secondo Casadei. a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.